La fascite plantare è un disturbo che incontriamo spesso nel nostro lavoro ed è un'opportunità per combinare il lettino mitosintesi con il T-Care in maniera molto efficiente. Come probabilmente sapete la fascia plantare è collegata alla catena posteriore. Possiamo trattare la fascite plantare localmente con il T-Care ma anche durante il trattamento possiamo allungare la catena posteriore e combinare ciò con il trattamento del T-Care. Posizioniamo il nostro paziente in modo di allungare la catena posteriore. Questo ci permetterà di trattare la fascite plantare. Andremo a usare il nostro modo resistivo. Posizioniamo l'elettrodo passivo con un po' di crema di contatto sotto la gamba e dopo un riscaldamento con il modo capacitivo siamo pronti ad iniziare con un trattamento con il modo resistivo. Possiamo iniziare a fare il trattamento per il nostro paziente e mentre facciamo il trattamento possiamo chiedere al paziente di fare il raccoglimento del mento mantenendo la testa sul cuscino. Adesso siamo pronti per allungare tutta la catena posteriore e volendo possiamo aggiungere un po' di allungamento. In molti casi troverete che i vostri pazienti noteranno delle tensioni in altre zone, forse un muscolo ischio crurale, le natiche, lungo la colonna e perfino l'occipite. Nulla ci impedisce di semplicemente portare il nostro manipolo e possiamo per esempio anche trattare molto facilmente nella zona occipitale se il paziente percepisce qui qualche problema. Il punto è che stiamo allungando tutta la catena posteriore e ci siamo trasferiti all'occipite per fare il trattamento della fascite plantare più efficace. E in questo modo stiamo lavorando con tutto il sistema della postura globale.